Il signor Antonio Manca di Cagliari è venuto a rendere omaggio ai propri cari defunti da una pulita alla lapide di una sua parente che non c'è più. Signor Manca, lei è venuto qui a rendere omaggio? Ci sono delle difficoltà dentro e fuori il cimitero? Per esempio, lei è venuto in auto, a piedi? Sono venuto in auto. Hai riuscito a trovare parcheggio facilmente? Ho dovuto chiedere a un amico di fare il parcheggiare a casa sua, praticamente. Nel suo posteggio, per portare il parcheggiare. Perché proprio non è riuscito a trovare un posto? Non è riuscito a trovare un posto. E poi comunque anche il posto non è neanche giusto, che io devo pagare la tangente per parcheggiare. Scusatemi, eh. Non sono razzista, però arrivato a un certo punto si è una tangente quella. Chiamatela come volete. E dentro il cimitero di San Michele ci sono delle criticità? L'ascensore non funzionano. Basta dire quello. L'ascensore non funzionano. Dove c'è mia sorella Barbara, praticamente non ci sono nel lavandene, né cosa della spazzatura. Devo scendere giù, devo farmi 100-200 metri per andare a prendere la bottiglia d'acqua. Non mi sembra il caso. E spero che ci sia un'altra gente che si lamenti. Perché non è possibile che uno, negli ultimi che hanno fatto in alto, non ci sia, sono come questi, sono qui sopra, non è possibile che non ci sia l'acqua sopra, che non ci sia un cestello per buttare le mondezze. Non è possibile. Una giornata come oggi, gente anziana, che va a vedere come si chiama, non può prendere anche l'ascensore. Ma è poi.